ciao ragazzi come state? bentornati sul mio canale, anzi bentornata a me perchè è praticamente più di una settimana che non vi carico un video qui su youtube ma come saprete sono veramente molto impegnata con le cose da fare e poi vi dico anche la verità con questo canto è veramente snervante mettersi davanti alla luce che è calda con la finestra e la porta chiuse perchè altrimenti si sente un casino mai visto e chi fa i video asmr come me lo sa che in estate dobbiamo chiudere le finestre perchè sennò non possiamo registrare i video comunque eccomi qui allora oggi sono un pochettino così sbatta però come il resto dei miei video perchè c'è l'ane che sono sbatta sono andata al lavoro così e sono tornata da un'ora più o meno quindi sono le nove e mezza credo di sera e niente voglio farvi questo video un po' di suoni e show and tell visto suoni perchè è un video che vi piace tanto ah di là intanto c'è mi che sta vedendo la partita dell'inter quindi ha detto che devo smammare e no sto scherzando però subito ha detto ah siccome tu fai video io mi metto a vedere la partita in santa pace perchè di solito io lo asillo mentre si vede le sue cose comunque comunque allora per chi magari si stesse chiedendo che rossetto indosso è un rossettino di essence molto molto bello mi piace molto ed è il this is me non so se vedete è veramente molto bello intanto scusatemi se in tutti i miei video io non ho la testa ma non so come regolare esattamente la il cavalletto e la mia testa quindi ogni volta sono mozzata allora vediamo intanto vi faccio un pochettino di aggiornamenti vari allora il primo aggiornamento è che il 3 agosto se non mi seguite su instagram seguitemi trovate tutti i riferimenti in alto in basso giù nell'info box il 3 agosto ho fatto la promessa di matrimonio quindi è stato molto emozionante quindi ho comprato un vestito in genere almeno qui da me si usa vestirsi di verde al matrimonio e io non ho trovato niente in tutti i negozi che sono andata ma non cose verdi cioè proprio non ho trovato niente nei salti sapete cosa vuol dire niente? niente e infatti non ho comprato proprio niente ho comprato un vestito molto bello a fiori ho le foto su instagram quindi vi consiglio di andarle a vedere poi adesso io le ultime due settimane di agosto prendo le ferie quindi vado al mare mi abbrunzo finalmente e faccio diciamo più foto quindi vi faccio vedere magari più outfit e vi carico più foto su instagram comunque comunque vi dicevo il 3 agosto ho dato parola quindi ho fatto la promessa di matrimonio e abbiamo firmato abbiamo fatto le foto e poi siamo andati a mangiare in un ristorante molto carino ed è stato è stata una giornata molto molto serena diciamo diciamo che diciamo che poi poi noi abbiamo scattato le foto con i nostri cari quindi con la nostra famiglia scusate se mi gratto ma mi hanno mangiato le zanzare e quindi eravamo pochini perché ci stava mia mamma le mie sorelle mio padre mio padre il padre il fratello di emi e la la fidanzata di mio cognato e poi quindi eravamo solo questi pochi ma buoni e poi c'era sono venuti anche i miei zii due miei zii e mi ha fatto molto piacere e niente quindi abbiamo festeggiato poi a pranzo e abbiamo continuato a scattare delle foto è stata una giornata molto tranquilla e io pensavo che diciamo mi ero immaginata questo giorno come andare a firmare e basta fare un po' di festeggiamento e stop invece noi abbiamo festeggiato tranquillamente anche perché chi come me sa comunque i genitori separati non si aspetta diciamo di passare questo giorno tutti quanti insieme invece noi siamo stati tutti quanti insieme tranquilli ed è stato molto bello avere quel giorno la famiglia è stata unita diciamo e niente questo è ragazzi e poi adesso non mi resta che abbronzarmi e e niente e poi ultimare le cose che ci stanno da fare io vi dico la verità in questo periodo sto andando sto andando veramente un pochettino in ansia verso l'organizzazione perché bene o male siamo molto organizzati e e molto preciso scrupoloso e quindi io e lui insieme e con l'organizzazione andiamo bene ma sono molto in dubbio con il mio vestito e con le mie cose cioè proprio con le mie preparazioni ho paura che i capelli non vengano bene ho paura che il trucco farà schifo anche perché lo faccio io quindi ho paura che quel giorno sarò mezzo cabinetto e io ho paura che cado dalle scarpe perché ho paura di non trovarle oppure di trovarle troppo alte oppure di non so di non saperci camminare cadere davanti a tutti e ho paura che il vestito non venga bene quella è la mia paura più grande ma penso forse un po' di tutte le spose da come ho capito l'abito che provi è un campione quello che prendi e invece il tuo vestito fatto su misura per te da capo però ho letto di tante ragazze che quando si sono andate a provare l'abito era totalmente diverso da quello che avevano provato precedentemente quindi mi domando e mi dico se una cosa del genere accadisse proprio a me io veramente non so cosa farei speriamo di non anche perchè il mio vestito è semplice ma è molto particolare diciamo nella sua semplicità quindi ci tengo molto comunque detto ciò vi mostro delle cosine e facciamo un pochettino di suoni allora ragazzi questo è happiness boutique io ho collaborato con loro in passato però mi hanno ricontattato e ho scelto varie cosettine tre cosettine mi piace molto mi piace molto il loro sito cioè proprio mi piacciono molto le loro cose e hanno veramente tante tante belle cosettine io vi lascio come sempre giù in infobox tutti 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 i riferimenti e i link alle cose che vi mostro e se mi danno qualche codice a sconto ve lo metto giù quindi date sempre un'occhiata all'info box perché è molto importante allora io diciamo che queste scatoline sono veramente bellissime cioè guardate io non le butto mai le scatole di happiness boutique perché sono bellissime non so se ne ho altre aspettate adesso video però non mi ricordo dove non mi ricordo dove le abbia messe non mi ricordo non mi ricordo vabbè comunque non so se si evita ma sto suonando come un lama ma perché ma perché fa troppo caldo e poi queste cose sono belle anche proprio come regalo da fare allora la prima cosa che ho scelto ho scelto tutte cose dorate diciamo però però ragazzi ho notato che su di me sta meglio l'argento cioè è strana questa cosa perché in realtà sono tipo un autunno profondo un autunno intenso non so però in realtà mi sta meglio l'argento non so trovo che mi stia meglio comunque ho scelto questi che sono un paio di anellini sono li vedete molto belli e ho capito che questo suono vi piace tanto adesso li voglio provare per vedere come sono io sono una patita di cerchietti infatti infatti io e mia sorella ora andiamo a farci altri cerchi alle orecchie perché sono molto belli e eccoli qua guardate quanto sono belli questi cerchi sono semplici però sono veramente belli scusate il mio naso che occupa tutta la videocamera eccolo qua anche con una coda così bassa non so se vedete con una coda bassa così sta molto bene mi piacciono i capelli poi poi sempre così ho scelto anche guardate che bella questa scatola molto primaverile con i papaveri io poi adoro i papaveri sono molto belli e mi piace tanto e mi piace tanto quando vengono accarezzate le cose mi piace veramente peccato che lo facciano a pochi allora se riesco ad aprire vi faccio vedere vi faccio vedere anche ecco qua altri orecchini dorati sono dei cerchi vedete questi questi sono un po' più grandi li faccio vedere indossati anche questi qua così capite però molto belli anche questi qui eccoli eccoli belli 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 eccoli qui vedete sono tutti sono tipo tutti grattati vabbè diciamo che tra questi e questi io preferisco i piccolini perché proprio il mio stile questi piccoli questi grandi anche però non li metterei per tutti i giorni vedete però comunque sono molto belli ah ragazzi un sacco di gente mi chiede sempre Mary che colore fai che colore hai fatto i capelli quale colore usi nessun colore questi sono i miei capelli veri cioè il mio colore di capelli cioè il mio colore di capelli poi come ultima ho voluto scegliere una collanina perché mi piacciono in estate me le metto in inverno ma no non riesco a mettere collane perché con le maglie a collo alto comunque con i maglioni e già fa già tiene tutta sta roba addosso e giubbino maia sciarpa quindi mi danno fastidio le collane in estate invece sono belle è si e e e guardate qua questa è in oro rosa è una collana che ho scritto l'oppo però ce ne stanno di tanti 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 maniere e spero di poter collaborare ancora con happiness boutique perché vi voglio far vedere quanta roba bella vendono ecco la tipo dovrei vedere se vendono anche le cavigliere perché mi piacciono vediamo un po' eccola qua guardate quanto è bella wow mi piace vedete con la scritta loba anzi adesso me la metto così capite l'ho messa un po' l'arca in realtà si può ancora più stringere così e non potevo non prenderla perché adoro queste queste collanine e niente ragazzi queste sono le cosettine di happiness boutique io ringrazio happiness boutique perché e mi ha dato la possibilità mi ha dato la possibilità di scegliere cose veramente molto belle e quindi come sempre andate a dare un'occhiata all'info box io intanto io volevo far sentire il rumore di questa borsa perché oh guardate questa borsa qua me la voglio mettere per uscire diciamo per tutti i giorni voglio togliere quella che tengo perché va veramente schifo e usare questa e questa me l'hanno inviata penso un anno fa qualche sito cinese che non ricordo però è molto bella tipo di macramé però lo stavo vedendo si è rotto però no non è rotto no 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 anche perché non l'ho mai utilizzato e poi vi voglio fare anche l'ultimo suono che mi avete visto e quell'orecchino indiano vi avete detto tantissimi di voi facci dei suoni con quell'orecchino e quindi siccome vi voglio far perdonare perché è da tanto che non faccio video mi ricordo che io lo volevo e me lo regalò mia mamma e costavano pure parecchio se non sbaglio ci rimasi male perché ci si marò poi io sono sempre stata una che quindi non mi piace far spendere soldi alle persone vabbè ecco è bello proprio come sono però se te lo metto tutta la giornata ti assilla il cervello perché ci sono molti suoni sono fastidiosi nelle orecchie però lo usiamo come video smr anzi come trigger per video smr sembra uno scacciapensiri bello poi questo verde è veramente ipnotico come vedete e niente mi avete anche detto di fare un altro suono ma adesso non mi ricordo comunque comunque in questi giorni spero di caricarvi nuovi video e vi voglio anche aggiornare un po' sui sulle mie palette anche se ultimamente si può dire che questo mese ho comprato trucco ma perché lo sto comprando per il matrimonio però altrimenti non l'avrei comprato devo finire di prendere altre robe ma purtroppo non sono la figlia di Obama ecco fatto noi ci vediamo al prossimo video ciao